Oh, dai! Dora mi fa male uno dei giochi più pericolosi di questo programma. È violento. Quindi io vi prego di non farvi trascinare troppo dall'agonismo. Benissimo. Allora, a partecipare saranno... Paola Di Benedetto, Gianluca Fubelli, Barbara Foria e Biancio Izzo. Io mi faccio trascinare. Paola e Fubelli saranno la squadra rossa. Biaggio e Barbara saranno la squadra blu. Come in Napoli. Dovete inserirvi all'interno dei gonfiabili. Come va? Metti un po' d'olio! Ci spieghi questo gioco, Stefano? È molto semplice, è come il musichiere. Voi ascoltate una canzone, dovrete indovinare l'interprete. Ovviamente per prenotarvi dovrete arrivare al buzz del colore della vostra squadra. Quindi gli azzurri di là e i rossi di qua. Potete ostacolarvi. E certo! Siete pronti? Sì! Biaggio! 3, 2, 1... Musica! C'è questo, c'è questo! Piano, 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 Barbara Foria si è prenotata. Vieni con me, vieni con me. Mi devi dire la risposta. Allora, Barbara Foria. Sì! Chi canta la canzone che abbiamo appena ascoltato? Vola! Con quanto fiato... L'abbiamo già ascoltato! Lorenna Buccarina! Giù! 1 a 0! Per gli azzurri! Molto, molto bene! Prossima canzone. 3, 2, 1... Musica! Silvestri! Silvestri! Ben! Parola, parola di Benedetto, vieni qua. Chi canta la canzone che abbiamo appena ascoltato? Ovviamente Silvestri! Daniele Silvestri! Salirò, 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 tra le rose di questo giardino. Salirò, salirò, prima quando... Comunque Izzo è scorretto! Panda dice che è tutto regolare, lui è il nostro notaio. Prossima canzone. 3, 2, 1... Musica! Panta fretta ma dove corri? Bellaio! Se ci ascolta la canzone di... Tu, tu proprio non l'hai vista, l'hai passare. No, io so. Ti piaccio! Paola di Benedetto. Edoardo Bennato. Giusto! Ricordi la vado. Dove vai? Che fortuna c'è la vittura di... 2 a 1 per la squadra rossa. Andiamo avanti. Notaio, notaio! Eccolo qua il notaio, dica. Scusi, Panda, la ragazza è clicca levandosi, allora. Eh? Non lo so. Vabbè, lasciamo stare, queste lamentele inutili. 3, 2, 1... Musica! Questa soledà... New York... Allora, senta, senza questo lei non si può frenotare. Mi dispiace, quindi se lo rimetta e torni a posto. Se la stai suona! Ma sei scema! Paolo di Benedetto, vieni pure al centro. Aspetta! Chi canta questo brano? Tommaso Paradiso dei giornalisti. No! 3 a 1 per la squadra rossa. È piccolo Gianluca Cumbelli e Paolo di Benedetto. Buona rinforzata! Grazie!